Parlando di cenni storici dobbiamo parlare un attimo, accennare all'ultima glaciazione, l'ultima glaciazione che è avvenuta in Europa intorno circa a 12.000 anni fa. Diciamo che intorno al 6.000 a.C. ci sono uomini provenienti dal nord della Germania che cominciano a esplorare, sono soprattutto cacciatori e pescatori, che cominciano a esplorare le zone della Scandinavia, la Danimarca, parte della Svezia e piccola parte della Norvegia. In realtà non ci sono dei reperti archeologici così significativi, però abbiamo qualche traccia di questi passaggi, di queste incursioni, diciamo così, per poi avere un... sappiamo che una volta che ci sono stati questi approdi da parte di cacciatori e pescatori, hanno cominciato sempre intorno al 6.000 a esserci delle condizioni stanziali, quindi la terra cominciava ad essere oggettivamente praticabile e di conseguenza alcune popolazioni, alcune piccole tribù, hanno cominciato ad essere stanziali in queste zone della Scandinavia. È però solamente tra il 4.000 a.C. e il 1.500 a.C., quindi nel periodo neolitico, che effettivamente cominciamo ad avere una serie di reperti archeologici abbastanza importanti che cominciano a darci delle idee ben precise sulla tipologia delle popolazioni del luogo. Tant'è che, appunto, in base ai reperti che si sono trovati, si stima che intorno al 3.000 a.C. esiste un tipo di cultura contadina che ha una struttura sostanzialmente matriarcale. È invece intorno al 2.000 a.C. che cominciano a apparire le invasioni indo-europee, in modo particolare quella del popolo definito così, il popolo dalle asce di combattimento. Questa è un po' la parte che più ci interessa, perché l'impatto che queste popolazioni indo-europee hanno sui locali è un impatto molto forte. Tant'è che esiste, si scatena appunto una guerra che poi nel mito la troviamo come la guerra tra gli asen e i vanen. Cioè gli asen sono popolazioni guerriere, mentre i vanen sono più popolazioni contadine. C'è uno scontro abbastanza feroce che si protrae per diversi anni, ma che porta sostanzialmente a una pace, una pace molto importante, e a un'integrazione di parti, delle migliori parti, delle culture e della religione locale. Quindi una fusione tra questi due popoli, che poi viene ritrovata appunto nell'Edda di Snorri. e questo stabilisce una pace molto importante e anche un'unificazione di queste due culture, dove una, come quella degli asen, è di tipo patriarcale, mentre quella dei vanen è di tipo matriarcale. E questa integrazione, come dicevo prima, è molto importante perché porterà a tutti gli effetti a creare una condizione unica, che poi è quella che in qualche modo a noi è stata tramandata. E parliamo in modo particolare dell'aspetto spirituale e magico-religioso. Intorno tra il 1500 a.C. e il 500 a.C., nell'età del bronzo, abbiamo effettivamente le prime testimonianze rupestri e archeologiche che fanno risalire abbastanza chiaramente al tipo di culto e al tipo di religione che queste popolazioni praticavano. Spesso, quindi parliamo di popolazioni che conosciamo bene con il nome di vichinghi, spesso la storia mette in risalto l'aspetto distruttivo delle popolazioni vichinghe. In realtà questo è un grosso errore, un grosso errore perché i vichinghi erano sicuramente dei guerrieri indomiti, erano sicuramente dei potenti colonizzatori, ma erano anche degli abilissimi artigiani, degli abilissimi navigatori. Sappiamo che dalla Svezia alla Danimarca, alla Norvegia, sono poi passati in Islanda, hanno stabilito rotte con l'Agroellandia, con il Labrador, con l'isola di Baffin, le terre baltiche, la Russia, sono addirittura arrivati a Costantinopoli, a Bagdad, sono arrivati nel Canada settentrionale, in America del Nord. Ovviamente anche in Inghilterra e in buona parte d'Europa. Quindi erano delle popolazioni molto abili nella navigazione, hanno stabilito queste rotte non solamente come volontà di colonizzazione, ma anche come rotte commerciali. Nell'ambito storico c'è da fare una distinzione molto importante tra quello che è la cultura societaria tribale dei vichinghi, delle popolazioni del Nord meglio, e quello che invece erano i vichingar, cioè effettivamente i vichinghi. Perché le popolazioni stanziali, chiamiamole così, cioè quelle che vivevano in piccole tribù, avevano un'idea molto forte della Sippe. La Sippe è quella comunità familiare dove gli individui sono legati tra di loro da dei fortissimi vincoli di fedeltà, di lealtà reciproca e di collaborazione, di sostentamento. I vichinghi erano invece, propriamente detti, erano invece quel gruppo ristretto di guerrieri che Tacito chiamava comitatus, che seguivano un condottiero nella cui figura riconoscevano effettivamente un capo, un leader, il proprio ideale di vita. Quindi erano tutti quei guerrieri che in qualche modo si ribellavano per motivi generici, si ribellavano all'idea comunitaria e quindi preferivano stabilire delle nuove rotte per colonizzare nuove terre. Una prova di questo è la colonizzazione dell'Islanda. I vichinghi di allora non volevano sottostare al crescente potere di Araldo Bellachioma che in quel tempo si stava espandendo, il suo potere si stava espandendo in maniera significativa in Norvegia. Ecco, detto questo, coloro che non volevano sottostare a questa nuova autorità preferirono salire sui dracar, quindi sulle navi vichinghe, e veleggiare verso nuovi orizzonti da cui approdarono in Islanda e ci rimasero. Ecco, i vichingar quindi, pur essendo anche loro chiaramente facente parte delle popolazioni del nord Europa, non avevano questa idea della Sippe, quindi l'idea comunitaria, societaria delle popolazioni più stanziali del nord, ma avevano appunto questa idea della conquista, bramosia di conquista, ed è una cosa molto importante che io cerco sempre di sottolineare, è che in realtà, a differenza delle religioni monoteiste, i vichinghi, che ovviamente erano chiamati dispregiativamente, in modo dispregiativo pagani, non hanno mai, così come tante altre popolazioni politeiste, non hanno mai imposto alle popolazioni nei luoghi dove sono arrivati, dove sono riusciti a colonizzare, non hanno mai imposto la loro religione, a differenza appunto invece delle religioni monoteiste, in cui invece l'obiettivo classico nelle loro mission, nelle loro spedizioni, in modo particolare, stiamo accennando a quella cristiano-cattolica, è stato proprio quello di partire con l'obiettivo di colonizzare e di convertire alla nuova fede. Questa è una cosa che i vichinghi, come tante altre popolazioni politeiste, non hanno mai fatto. Vedo che è arrivata una domanda. Spesso sento, da chi studia la storia, Norrena, l'Islanda come zona più interessante per questi studi. I motivi stanno nel fatto che è rimasta isolata dall'influenza cristiana, ma non direi, non è assolutamente vero che l'Islanda è stata isolata, anzi, abbiamo intorno al XVIII secolo Arnie Pettersson è stato trovato in possesso di pergamene runiche ed è stato bruciato vivo perché la legge cristiana di quel tempo vietava, appena la morte, il possesso di pergamene runiche. Quindi non è vero che l'Islanda fosse isolata dall'aspetto del cristianesimo. Addirittura il Parlamento islandese, se non erro, intorno al XVIII secolo, si convertì in massa al cristianesimo, ma questo avvenne più che altro per evitare di disgregare il tessuto sociale. Quindi è vero che l'Islanda ancora attualmente ne è la prova della comunità Zatru che è stata fondata parecchi anni fa e che l'Islanda poi ha riconosciuto come religione ufficiale, una delle religioni ufficiali ovviamente. È vero che l'Islanda è quella meno influenzata, ma questo perché probabilmente sono riusciti per un lasso di tempo molto più lungo a tenere compatto il vecchio tessuto sociale.